buongiorno a tutti questo è il canale di magiro qui troverete video tutorial di origami di origami semplici articolati di animali di cose di arredo un mix di di tutto e in più in futuro troverete origami legati al mondo dei videogiochi del del design del del cinema dei fumetti e molto altro tutti ispirati da da questi fantastici mondi e adesso vi lascio per perché possiate intrattenerli con questo canale grazie a tutti grazie a tutti